Olè! Ma c'è un cu... quasi ma scusate! C'è ma Gesù Cristo! E' Maria? Regà? Raga c'è una piantaggione di... Hola ciurma! Oggi vi mostro le cose illegali che ho visto su GeoGuessr Questa sera alle 20 live continueremo a giocarci Mentre non lasciate un mega mi piace e iscrivetevi al canale E qua sotto nei commenti fatemi sapere se vi piace questo gioco Ciao amici come state? Raga sento freddo Ragazzi... E dove mai sono? Raga dove sono? E' paresemente... Allora o è l'Australia o è Sudafrica Sono in mezzo al nulla! Dov'è? Cassa! 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 E' paresemente l'Australia! Andiamo avanti! Allora già qua ragazzi Allora ha la correction da Ucraina E' rosso la targa? E' rossa la targa? Oddio ragazzi ma sti cosi qua li vedevo da qualche parte Cosa è tipo Norvegia? Che cos'è? Albania, Romania, Polonia Signorina mi scusi dove... 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 Oddio ma che piede ha signora? Buonasera ragazze No 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 non voglio! No non voglio! No non ci vengo! No 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 Lavaz castrati No 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 Cast... no non voglio! Mi sa tanto di Albania questa roba Cassa! Andiamo! Ma che spawn che abbiamo beccato! Ah! E vabbè raga! Qua mi sa tanto di zona vicino Singapore Giappo non mi sembra sinceramente Anche se... no... No 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 Mi sa... o è Corea? Dite Corea? Eh raga aspetta! Eh Nord Corea? Sud Corea? Raga cassa! Cassa! Sud! Raga! Raga ma siamo dei mostri! Raga siamo dei mostri! O là! Mamma mia che... Ma che paesaggio c'è qui? Ma che paesaggio mistico abbiamo qui? Qua... È un missile! È un... è un aereo! Saltuari privi di... Protezioni! Mi sa un cartello scritto in italiano! La butto lì! Dove cacchio? Io mi perdo sempre! Non lo so! La butto lì! Ma che bello! Ma che verde! Bello da texture pack! Vedo qua che c'è un attivo delle bandiere! Perché sono bandiere! No sono irratati qui quasi in segna! Ristorante Middag! Welkommen ragazzi! E cosa? È Svezia! Welkommen non è... Romania, Polonia, Slovenia! Può essere Slovenia! Ah punto EU! Snort! Ma potevate usare il vostro... Il vostro coso! Ma è una casettina in miniatura! Ci abita dentro Nova! Io dropperei Norvegia, raga! Trasto la Norvegia! Cassa, raga! Cassa! Norvegia! Classico stereotipo Cina-Giappo! Raga, mi sa tanto di... Mi sa... Quei posti da Singapore! Perché è tutto in inglese? Work ahead! Non è... Non lo so! Non è che ci stiamo facendo... Singapore! Fili di Singapore! Mamma mia ragazzi! Mamma mia che ciurma! Mamma mia ragazzi! Mamma mia! GG raga! Siamo a sei! Siamo a sei! No raga! Questa è benzina! Qua danno fuoco alle balle di fieno! Qua stanno a perdere fuoco a queste balle di fieno! Io non vedo letteralmente civiltà! Non c'è nulla! Aspetta c'è qualcosa forse qui? È presamente qualcosa in quelle zone... Non vorrei dire Ucraina giù di lì ma... Quei posti là! Boussov Karlov! Eh Karlov ragazzi! Il classico nome famosissimo! Potenzialmente Polonia! Andrea ok! Ah facciamo Romania! 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 Ok! Allora Romania! Era Repubblica cieca! Non Romania! Beh raga! La butto lì! Punto Ru! VRN! Ma sembra proprio quei siti di bot praticamente! Eh raga! Punto Ru! Ok! Targa completamente rossa! Quindi non siamo nell'Unione Europea! Raga! Eh... Qua! Vedo questi ragazzotti! Mi sa che siamo... Peru! Sono pannocchie! No raga! Queste cose qui ragazzi! No raga! È palesemente! È la cosa! È lì! Sono me in Cile! Sono me in Cile! Il Butan! Il Butan di sua sorella! Olè! Ma c'è un culo quasi! Ma scusate! Ma io posso beccarmi queste cose! C'è ma Gesù Cristo! Mi scusi brodi! Non sei levato il culo! Ma io non ho capito! Ma io non ho capito! No no! Ma io mi posso girare un attimo! Lo vedo! C'è eh... Vapò! Se volete organizzarvi per una leccata dei piedi o una dorata io sono disponibile! Questo è appena sgommato con la moto! Non lo so! Ma è Maria? Raga! Raga c'è qua! Raga c'è... Raga c'è una piantagione di... Raga io... Eeeh... Colombia? Droppiamo Colombia? Colombia per il meme? Se non me non è Colombia! Che regala era? Messico? Vabbè! Ah te ti spioventi così ragazzi mi sa soltanto di una cosa! Norvegia! Mi sa di Svezia e Norvegia questa! Svezia e Norvegia! Palesemente Catania! E no 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 no! Ci sono le strade! Non può essere Catania! Raga Norvegia o Svezia! Norvegia o Svezia! Oddio potrebbe anche essere l'Olanda a dire la verità! Potrebbe anche essere l'Olanda! Perché l'Olanda comunque... Questa può essere la classica mucca svedese! Olè! Questo è il classico trattorino però olandese! Raga! Olanda! Olanda è Netherland! Ma che senso? Eeeh? Ma che c***o siamo? Bro! Bro! Ce l'ho rapito! Ma è un dinosauro! Raga ma che c***o è una rec room? Ma che cos'è? Ma è un bunker! Raga! C'è scritto Corea qui! Brasil! Io ragazzi mi... Non so! Ho paura che... Io andrei... È tipo un museo! È abbastanza inquietante come posto ragazzi! Io ho paura! Fatemi fare una cosa scusatemi! Ok! Raga! Ci stanno satelliti! Televisine a terra! Raga! Eeeh! È Cina! È Cina! Cina o Corea! Non lo so! Io so più per la Cina! Era la Sud Corea! Vabbè raga! Raga! Questo è un posto... Best sono io! Beh raga! Questa mi sa tanto di... Oh! Strisce gialle! Norvegia o Svezia! Ma secondo me... Mi sa tanto più di... Svezia! Ah no! Sì vabbè raga! Ma dove cacchio siamo? Qua bua! Dov'è? Australia! Francia! Francia! Raga! Prima a quello prenderemo sto camion! Vi è qua! Vi è c'è! Qua siamo fuori l'Unione Europea! Aspè! Stiamo guidando a sinistra! Questa è l'Australia! Stiamo guidando a sinistra! O è Australia o è... Inghilterra! Le pensate che questa sia Sud Africa? Seguiamo il camion! Il camion ci porterà! Non so dove! Stiamo superando il camion! Sium! Suga! Ma raga... Da me è Australia... Così è Australia! Sud Africa! Era Sud Africa! Era Sud Africa! Allora il cielo... Mi sa di un posto comunque... Molto freddo! Ci sono tanti cavalli e mucche! Dubito che sia Italia! Dubito fortemente che sia Italia! Aspettate ci sono... C'è la segnaletica! Mo dice tipo che ne so... Mayenfeld! Raga! Eh... Eh... CH! CH! CH è Svizzera? Punto CH! Sì! Moito! Che cos'è questo? Aspetta! Targa gialla! India! La sua dice Israele! Eppure secondo me... Davide! Cosa Grecia? Olè! Ma è la mappa di COD? Santierul Naval... Naval... Constanza sarebbe tipo... S.A. Quindi è San... Qualcosa! Questo mi sa di Brasile... Brasile! Mi sa di Brasile! Siamo vicini a un cantiere navale! Quindi comunque siamo lungo la costa! Potrebbe essere Spagna anche dite? Aspetta ma c'è la costa? C'è un cantiere navale ma dov'è l'acqua? Petrom... Petro... Petromar... Petros... Qui c'è roba di petrolio! Qua c'è roba di petrolio! Potrebbe essere Portogallo? Raga... Trasto la Romania di Ele... Sto andando perché ha regalato una sabona eh! Azz! Azz! Aveva ragione Ele! Azz! Next round! Raga questo è palesemente zona... Cina... Ah! Sì! È palesemente Cina stavo dicendo! Un'altra casetta piccolina! Ce l'ha in Norvegia! Colori della Norvegia! Mi piace come ragioni! Hai visto... Giochester Italia? Hai visto? Non lo so! Trasto! Trasto! Dai, 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 dai! Io faccio cagare comunque la giochester! È la prima volta che ci gioco! Olè! Pachmang... Non so leggere! No! Ho letto China e invece è Cica! È un c***o di strip club! Ho piccato uno strip club! La Cica mala! No raga, no, non è... No raga, questo può essere tipo... È sempre Nord! È sempre Nord! Sia per la U così e sì e sì anche per le... Questa qui potrebbe essere Olanda... O Austria... O Cienzo... Ma forse più Austria... Io ho il libro e un attimo ho letto China... Ho detto sì, ok, ma perché l'ho re-scritto così? E poi ho visto la tipo... E faceva la rap dance... Allora, queste robe qui... Aspetta ragazzi! Ho fatto oggi una run per provare... E... Le ho viste uguali i cartelli fatti così questi qua... I cartelli questi qui... Dovrebbe essere... L'avevamo fatto oggi della tipo l'Austria... Tututututututututututututututututututututu... Easy, easy... Raga, insegnatemi i trick! Allora, Abrovice... Abrovice... Abrovice con l'H davanti... Ragazzi, vi trasso la Repubblica cieca... Cioè, la Repubblica cieca ragazzi... Da ora in poi come la possiamo identificare? E quella è la cosa! Ma questo è il posto di prima? È tipo un posto che già abbiamo quasi visitato... Questo mi sa di India... Senza casco e Napoli Napoli, Napoli ci sono Per Juan Per Juan Che vedete l'Indonesia? Azza Indonesia, Indonesia Where is Indonesia ragazzi? Dov'è l'Indonesia? Non so dove sia l'Indonesia Raga, ben saluto Un bacione e un abbraccio Ciao a tutti, bye bye